Ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Oggi andremo a vedere le migliori piastre per capelli ricci o lisci in una sola passata. In quinta posizione troviamo la piastra Imetec per capelli lisci o mossi in una sola passata, ideale per tutti i tipi di capelli, regolazione elettronica della temperatura da 150 a 230 gradi, con 5 livelli di temperatura, rivestimento in ceramica delle piastre per una distribuzione omogenea del calore e la adeguata protezione dei capelli, piastre oscillanti che si adattano automaticamente alla ciocca per un risultato definito in una sola passata, link in descrizione. In quarta posizione troviamo la piastra per capelli suorchi, piastra rivestita in ceramica ricca di nano argento, tormalina e titanio elementi che aiutano a non danneggiare i capelli. Piastra 2 in 1 con piastra flottante 3D e piastra inclinata con angoli curvi consente di regolare continuamente l'angolo di utilizzo. Facile da utilizzare con display e temperatura regolabile dai 100 ai 230 gradi per utilizzarla con ogni tipo di capello. In terza posizione troviamo la piastra Remington con display digitale, riscaldamento rapidissimo in soli 15 secondi con 9 impostazioni di calore che va dai 150 ai 230 gradi centigradi, spegnimento automatico dopo 60 minuti di inutilizzo e custodia resistente al calore, piastre oscillanti rivestite di ceramica infusa di cheratina e olio di mandorle per una pressione uniforme sui capelli, link in descrizione. In seconda posizione la piastra Rivemp infusa con oli liscianti anticrespo, capelli morbidi e fluenti grazie alla piastra in ceramica Progloss, una composizione di cheratina, olio di argane e olio di cocco, per capelli lisci, setosi e lucenti. Controllo digitale della temperatura da un minimo di 80 gradi ad un massimo di 235, il display cambia colore in base alla temperatura così da proteggere i tuoi capelli. In prima posizione troviamo la piastra GHD Gold con la nuova tecnologia Dual Zone controllo della temperatura dalla base alle punte, per capelli più lisci, più setosi e dall'aspetto più sano, temperatura ottimale di 185 gradi per non danneggiare il capello e allo stesso tempo per non annullare l'effetto della piastra, spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo e riscaldamento super rapido, scontata del 30% link in descrizione. Bene ragazzi anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione e se siete interessati, grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo.